Proseguiamo il nostro concerto con un brano, un collez di brani, dedicato a una pagina musicale italiana molto interessante e al tempo stesso curiosa. Il brano che vi proponiamo si è intitolato da noi, perché è il nostro brano, il nostro arrangiamento, è intitolato scherzosamente qui in tetto Lescano. Infatti abbiamo preso dei motivi famosi, vi ricordate sicuramente negli anni 40 le sorelle Lescano, il trio Lescano, queste tre ragazze provenivano dall'Olanda, infatti il loro cognome originale era Lescano. Gli studiosi appunto di costume delle società le paragonavano alle Spice Girls, infatti vengono chiamate le Spice Girls degli anni 40. Quindi, detto questo, a voi Quintet Lescano. Grazie. 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 Grazie.